Per iniziare il 2022 è stata una partita molto difficile dopo tanto tempo che noi giochiamo una partita, però l'approccio è stato giusto, abbiamo fatto un gol, abbiamo preso un gol, per me non ci sta, dobbiamo lavorare su questo, però l'importante era vincere, cominciare bene il 2022, adesso c'è tante partite, c'è tanto lavoro da fare, è questo, siamo concentrati, dobbiamo stare testa giù, lavorare tanto, c'è una grande stagione ancora. Grazie per la visione.